Sapore di sale, sassa, sapore di sale, guardala che mare, guaguaguardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. L'allertamento di ramata nelle scorse ore dalla protezione civile ha coinvolto anche la Puglia. Nonostante le diminuzioni, seppur leggere, delle temperature, c'è chi continua a tuffarsi nelle splendide acque salentine. Il tempo, caratterizzato da nuvole e minacce di pioggia, non ferma i ciclisti che continuano a godere della novembrata di questi giorni. Calo delle temperature, ma non in maniera drastica, c'è chi continua ancora a fare le parole crociate, a prendere un po' di sole e chi, i più coraggiosi, si buttano anche in acqua. Noi veniamo anche il periodo di Natale, diciamo qua, perché facendo il bagno anche due volte a settimana o più, la temperatura dell'acqua ti sembra sempre costante. Lei niente bagno? No. Preferisce le parole crociate? Preferisco le parole crociate, sì, passo il tempo. Quando si tuffa lei? Già fatto alle nove e l'altro poco fa. Per oggi basta? Sì, bisogna poi asciugare perché poi ce ne dobbiamo andare. Fino a quando si fa il bagno? Mette fino a novembre, il massimo che ho fatto è stato il 26 novembre. Per poi riprendere? 25 aprile, riprendiamo solo le feste. Ciao! Ciao!